Volley Superlega, esordio vincente per l'ITAS Trentino a Latina che contro Cisterna parte in sordina ma poi vince per 3-7 a 1. Silvano Plona. Parte col piede giusto la stagione di Superlega dell'ITAS Trentino. Volley, campioni d'Europa abili ad espugnare il campo di Cisterna in quella di Latina, nonostante lo svantaggio iniziale con i laziali abili a portare a casa il primo set vehemente però la reazione di Trento anche grazie alla buona Lena in attacco da parte di Michieletto e la via 25-23, il secondo parziale ai vantaggi, il terzo invece sempre ad appannaggio di Trento per 27-25 con l'ITAS che chiude nel finale. 25-16 soddisfatto nonostante le difficoltà coach Fabio Soli. Siamo stati bravi perché abbiamo davvero sofferto però poi piano piano ci siamo sciolti, abbiamo trovato alcune condizioni di gioco che sapevamo di dover affrontare in maniera quantomeno migliore rispetto al primo set e questo poi ci ha portato a combattere, combattere con un'ottima Cisterna, a portare a casa il risultato che volevamo con tutto noi stessi.